quante volte abbiamo ascoltato su radio Bruno questa canzone ma oggi è una volta speciale perché c'è Emma Marrone con noi ciao a tutti ciao molto meglio grazie tutto bene tutto bene benissimo anzi dai stanca ma felice stanca ma felice orgogliosa tutto bene perché diciamolo subito l'album fortuna che è uscito il 25 di ottobre qui c'è anche la versione di il doppio vinile tra l'altro che facciamo vedere i nostri ascoltatori dopo una settimana direttamente primo posto in classifica nell'ultima settimana nelle vendite quindi è sicuramente una grande bella occasione anche per festeggiare assolutamente assolutamente sì sì ho festeggiato facendo le valigie ieri sera però insomma con grande con grande gioia siamo tutti felici io insomma il mio menaggio mentre la casa discografica abbiamo lavorato tanto questo progetto quindi grazie a tutte le persone che stanno amando fortuna grazie un progetto molto importante anche perché insomma ricordiamolo un mese e mezzo fa hai dato uno stop momentaneo diciamo così poi c'è stato per affrontare un problema di salute poi c'è stato l'intervento però tu non hai voluto spostare la data di questo album la presentazione che stai facendo in giro per l'italia con tutti i tuoi fan possiamo dire un pochino che fortuna e i fan che incontri in queste varie tappe sono un po anche la tua medicina in questo momento possiamo dire assolutamente l'amore della gente ti fa ti fa sicuramente sentire meglio per me questo disco è troppo importante quindi sì mi sono fermato un attimo sono tornata come avevo promesso a tutti quanti quindi sono qua e sono felice di poter parlare di questo disco che è tutta la mia vita in questo momento ci racconti la storia di io sono bella la canzone che vasco ha scritto per te tu sei una grande fan di vasco come è andata come come è nato quando me l'hanno detto la prima volta sinceramente pensavo fosse uno scherzo la verità e poi sono scoppiata a piangere perché sai è una cosa veramente incredibile io ho sempre amato vasco mi sono sempre ispirata tanto a lui e poi l'ho incontrato è venuto in studio a bologna è stato in studio con me mi ha seguito nelle prime registrazioni come come un mentore come un maestro come un amico era era molto ecco vasco è un artista incredibile ma anche una persona molto pura gli occhi veramente puliti e mi ha trasmesso una grande energia e lì capi lì percepisci veramente quanto è grande veramente un artista quindi sono onorata di avere questa sua canzone ma tipo ti ha telefonato ti ha detto sono vasco ho una canzone per te no no ci siamo incontrati siamo incontrati poi si ogni tanto mi scrive su whatsapp e manda le note vocali mi dice vai emma vai che spacchi tutto che adesso sei numero uno è bello fa sorridere è la prima volta che hai ascoltato questa canzone che parla tanto insomma di te vasco ha scritto davvero una canzone che parla tanto di te c'è una frase una strofa qualcosa in particolare diciamo che ti ha colpito subito dal primo ascolto oppure diciamo che quando parte con fammi godere adesso c'è ragazzi fammi godere la frase di vasco non ci credo che mi sta regalando anche questa perla e poi mi sono ritrovata in tutte le sue parole cioè lì ho capito veramente quanto lui realmente mi avesse studiata tenuta d'occhio osservata perché quella canzone parla veramente di me esprime al cento per cento quello che sono in questo momento e poi dice io sono bella ma non mi frega niente essere se stessi totalmente è facile a dirsi meno a farsi però tu ci riesci si è importante non stare dietro a quello che insomma un po i social un po la società ci impone questi questa immagine di bellezza perfetta invece le donne sono sono molto più belle quando sono anche intelligenti simpatiche e sincere e aperte a come dire al mondo quindi la bellezza si può trovare proprio nell'imperfezione non nella perfezione beh a proposito di social mi piace molto che sei tu stessa a seguire il tuo profilo instagram fai un gran lavoro perché hai fatto questa scelta perché tanti invece decidono di dare tutto a uno staff perché non voglio perdere la percezione diretta con il pubblico perché non voglio essere non voglio che mi venga filtrato niente nelle cose positive nelle cose negative quindi mi piace esprimermi attraverso i social con i miei fan in maniera diretta posto quello che voglio che se a volte non segue proprio le come dire le linee guida che adesso ti impongono i social quindi sono molto libera sono molto sincera e mi diverte molto perché questo mi permette veramente di avere un contatto diretto con il pubblico e di essere informata sulle loro sensazioni sui loro sentimenti sui sui loro desideri e questo mi aiuta anche poi a programmare anche altre cose anche magari durante i concerti prendo molto in considerazione quello che loro desidererebbero ascoltare e allora noi adesso vorremmo ascoltare un'altra canzone da questo album tra l'altro questa è una delle tre canzoni che hai scritto proprio tu quella che stiamo per sentire che dal titolo anche all'album fortuna la sentiamo ne parliamo fortuna e ma qui su radio bruno grazie bene così è bella la risata finale di questa fortuna una delle canzoni è uguale live non era voluta in realtà nel senso ero a los angeles stavo registrando e alla fine di questa canzone mi era venuto proprio da sorridere e il fonico il sound engineer e in maniera molto intelligente non aveva stoppato la registrazione e non ci aveva detto niente dopo averla lavorata un po ce l'ha mandata in studio abbiamo ascoltato la risata e io ho detto questa rimane questa rimane sì sì non è non è stata fatta apposta è stata una mia reazione alla fine del pezzo perché avevo tanto goduto nel cantarlo che mi è venuto spontanea così che bello e non l'hai solo cantato l'hai anche scritto è una delle canzoni che hai scritto di tuo pugno ma allora tu non credi nella fortuna no non credo nella fortuna perché non credo nella sfortuna siamo noi la fortuna di noi stessi siamo noi ad essere la nostra fortuna credo nelle coincidenze nei segnali della vita che ci che la vita ci manda credo che probabilmente ognuno di noi ha un destino ma credo che il destino possiamo anche modificarlo migliorarlo capito quindi attraverso la somma delle nostre scelte e quindi questo mi fa sentire un po più padrona di me stessa e spero che si sentano anche gli altri così cioè noi abbiamo il potere di cambiare le cose dobbiamo solo volerlo e lavorarci tanto ma è una che lavora lavora tanto c'è 18 erpes infatti adesso ci sono sette album sette album con questo c'è un libro ricordiamo nel 2016 che è dentro tutto acceso poi adesso è arrivato anche il cinema no sì gabriele mucino il film che uscirà mi sembra il 13 febbraio febbraio dell'anno prossimo che gli anni più belli ti ha chiamata lui come come è nata questa sì mi ha mi ha chiamata lui ho detto beh pazzo io non ho mai recitato non ho mai studiato ho detto vabbè sai non c'ho niente da perdere faccio un provino tanto non mi prenderanno quindi ho fatto questo provino insieme ad altre attrici e poi mi hanno preso invece e quindi è stata poi abbiamo iniziato a girare è stata un'esperienza incredibile perché comunque il mondo del cinema è veramente totalmente diverso da quella della musica e ho imparato un sacco di cose nuove spero di essere all'altezza delle aspettative insomma spero di non fare una brutta figura il 13 febbraio al cinema insomma spero che la gente mi apprezzerà anche in questo nuovo ruolo ti sei divertita comunque sì sì assolutamente sì è un mondo veramente magico è strano recitare è strano non so definirlo perché non ho termini di paragone non l'ho mai fatto quindi non so dire però devo dire che mentre recitavo nel ruolo di questo personaggio imparavo e capivo delle cose di me stessa no quando esci da te stessa per per far vivere un'altra persona in questo caso anna il mio personaggio nel far vivere anna capivo delle cose di emma nel frattempo quindi è stato anche un modo per fare anche autoanalisi molto molto profondo interessante bello e allora fra poco noi dal cinema torniamo alla musica che comunque visto stiamo parlando dell'album riparliamo di musica ci fermiamo un attimo perché abbiamo una pubblicità poi torniamo con una canzone noi chiediamo sempre un po gli ascoltatori di indicarci una canzone del passato degli artisti che ci vengono a trovare la loro preferita ci hanno indicato amami è la canzone che andremo ad ascoltare fra pochissimo troviamo fra poco emma marrone su radio bruno con amami e a radio bruno ospite oggi pomeriggio parliamo d'amore emma perché no da cosa ti accorgi di essere innamorata quali sono i sintomi quando è che dici sono fregata l'ho scritto in alibi che è un pezzo di fortuna e iniziavo in questo pezzo dici inizia proprio con questa frase che l'amore è quando non ti difendi quando non c'è logica quando non ci ragioni quando non metti dei paletti quando non ti trasformi vuol dire che forse quello potrebbe essere amore vero quindi tutta la mia spiegazione sull'amore è dentro alibi quando perdi il controllo esatto esatto supponiamo che volessi farti perdere il controllo e volessi invitarti a cena sì allora trattoria alla buona duete di carbonara o ristorante super elegante piatti gourmet dammi una possibilità ti posso dire entrambi sì sì io sono felice in entrambi i casi non sono non discrimino a me va bene l'osteria la trattoria ma se ogni tanto uno ti porta anche a fare un po la fighetta in questi pettinati perché no tu sei anche una brava cuoca tra l'altro cucini per i tuoi amici abbiamo visto delle foto in giro anche su manco a roma e gli amici iniziano a scrivere quando è che torni che ci mancano i tuoi piatti si accollano tutte le sere a cena io devo cucinare quindi a quanto pare quello che sai fare meglio ma devo dire che me la cavo su su tanti fronti vabbè piatto top sono le polpette al sugo cono senza l'aglio un pochino d'aglio ci vuole bravo però se levi l'anima dell'aglio e poi lo triti bene lo senti meno non si ripropone devo prendere appunti che mi piace molto esatto all'anno prossimo 25 maggio c'è questo 25 che ricorre 25 ottobre 25 maggio si va all'arena di verona per festeggiare alla grande con tutta la tua grande famiglia e il tuo compleanno i miei 25 anni sì anche anche gli anni sono 25 è vero confermiamo se c'è anche 10 anni di carriera esatto i 25 anni e 10 anni di carriera quindi sì non vedo l'ora spero di di regalare delle grandi emozioni a tutte le persone insomma che saranno presenti ci sarà un grandissimo viaggio musicale canteremo tante canzoni canterò tante canzoni insieme a loro e adesso vediamo adesso non svegliamo niente perché è ancora è ancora presto anche se già con qualche pensiero lo stiamo facendo ecco poi io sono una che vive vive di ansia quindi deve già iniziare capito anche per me maggio tipo e dopo domani capito e invece manca qualche mese perché dopo 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 natale c'è subito pasqua dopo pasqua c'è subito il 25 maggio e siamo lì sarà la prima volta tra l'altro dove canterai proprio tutto l'album fortuna sì assolutamente doppia emozione anche per questo per le tue canzoni invece che conosciamo già insomma del passato come amami eccetera eccetera hai in mente leggevo che forse ti piacerebbe rivisitarle riarrangiare sì assolutamente ma addirittura canzoni del paleolitico quelle del primo disco sì sì l'idea è di partire proprio forse da dai primi passi con le prime canzoni che ho cantato anche magari del primo disco capire come potrei cantarle oggi come potrebbero essere oggi rivestite di nuovi arrangiamenti adesso è tutto molto campato in aria però il pensiero c'è anche perché solo so che loro si aspettano questo momento revival così di vecchie canzoni e io sinceramente voglio voglio accontentarli tutti parliamo invece di canzoni nuove luci blu è la prossima canzone che stiamo per ascoltare ho letto che è vero è la favorita di tiziano ferro tu e tiziano siete trovati a los angeles dove tu hai registrato l'album si è venuto in studio ha ascoltato tutto il disco che gli è piaciuto tantissimo e luci blu era una delle sue preferite e quindi sono molto onorata di questo perché io amo e stimo tiziano e sono contenta che insomma lui abbia avuto questo pensiero di venire appunto ad ascoltare il disco in anteprima è stato bellissimo vederlo lì in studio io ancora non ce l'ho la pillola del tempo dici se invece la pillola del tempo tu ce l'avessi dove ti piacerebbe andare con questa pillola in quale punto della tua vita ti piacerebbe essere portata nel tempo beh quando ero mi piacerebbe tornare indietro di un bel po di anni e stare con mia nonna per fare la pasta fatta in casa nonna uccia sì e allora noi sentiamo luci blu emma su radio bruno emma marrone su radio bruno con luci blu hai ancora il fiatone no perché ti stavano trattenendo di là tanti amici che sono venuti nei nostri studi faccio la diretta poi corro di là faccio la foto che ragazzi gli autografi e torno di qua e hai tanti amici che si stanno aspettando oggi a bologna stai presentando l'album in giro per l'italia con una formula diversa dai soliti in store ce la racconti un po sì assolutamente dopo dieci anni insomma questa questo modo di incontrarsi frettolosamente foto fotografo al volo così anche perché sinceramente dopo dieci anni c'ho più foto con i miei fan che con mia mamma quindi e poi io io faccio la musicista fatto un disco preferisco spendere il mio tempo per parlare di musica insieme a loro quindi abbiamo ideato questa formula dove loro sono in questi teatri anzitutto seduti comodamente senza stare in piedi in fila e sono il mio tempo è dedicato totalmente a loro si parla del disco loro possono farmi direttamente delle domande o esprimere un pensiero un concetto canto dal vivo per loro quindi come se fosse veramente un privé dedicato veramente a a loro devo dire che sono tutti molto molto contenti sta piacendo questo nuovo modo di di parlare del disco insomma di raccontare un disco quindi sono molto contenta di questo allora ricordiamo che emma vi aspetta questa sera alle 18 e 30 questa sera insomma fra un paio d'ore sarà al teatro antoniano a bologna in via guido guinizelli 3 e per accedere ovviamente dovete avere il disco l'album di emma fortuna e potrete avere l'occasione insomma di sentire tra l'altro sono le prime volte insomma che canti questo disco abbiamo detto che dei concerti fino a quest'altro anno all'arena di verona non se ne parla e quindi avranno questa bella opportunità di sentirti cantare per le prime volte insomma dal vivo qualche canzone esatto di questa di questo nuovo album e di chiacchierare insomma assolutamente è stata una piacevole chiacchierata ci ha fatto tanto piacere piacere mio davvero veramente grazie a tutti gli amici di radio bruno perché veramente mi seguite da dieci anni e questa cosa glielo porto nel cuore grazie ma sei una forza della natura ti vogliamo bene rimani sempre così grazie grazie a voi e tanta fortuna anche se non ci credi però tanta fortuna il titolo dell'albume guarda ci stava perfettamente ciao 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 ciao